A metà pomeriggio di martedì 29 luglio, un violento nubifragio ha colpito la Granda, questa volta con particolare accanimento per la Langa. Danni si registrano praticamente ovunque, in particolare a Sinio, Grinzane-Cavur, Monforte, Castiglione-Falletto, Barolo, Novello, Monchiero, Faregliano, Clavesana, Carrù ed in principal modo Adogliani. Decide gli interventi dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai carabinieri e dai volontari della protezione civile. Secondo i nostri igrometri, sono caduti in circa mezz'ora 30 mm di pioggia. La rimonta della pressione favorirà domani il bel tempo e purtroppo la conta dei danni, particolarmente ingenti alle coltivazioni. Incidente mortale a Caraglio, verso le 12.20 di martedì 29 luglio, in frazione Paschera San Defendente, un uomo classe 1942 è stato travolto dal trattore dopo averlo messo in moto. Sono intervenuti sul posto purtroppo inutilmente gli operatori del 118, oltre ai carabinieri e dai Vigili del Fuoco. La mattina di mercoledì 30 luglio, alle ore 8, si svolgeranno presso la Basilica Vaticana a Roma le esecchie funebri del Cardinal Francesco Marchisano, arciprete merito della Basilica di San Pietro ed è ceduto a Roma la mattina di domenica 27 luglio, all'età di 85 anni, originario di Racconigi, fu ordinato sacerdote nel 1952, per poi essere nominato vescovo titolare di Populonia nel 1988 e creato cardinale da Papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2003. La salma sarà tumulata nella tomba della sua famiglia a Racconigi. Incidente a San Biagio di Centallo, verso le ore 16.30 di martedì 29 luglio, un'auto si è scontrata con un furgone, tre feriti tutti da codice giallo, sono stati trasportati dagli operatori del 118 all'ospedale Santa Croce di Cuneo.